Internazionale per lo chef, vediamo se conosce davvero, come dice lui. Abbiamo poco tempo, ma tanto un esperto non avrà un gran bisogno di tempo, perché abbiamo tre tipi di cioccolata come voi potete vedere da casa e lui dovrà riconoscere il grande chef di che cosa si tratta. Partiamo da questo e allora, caro Francesco... Che fammi in bocchi? No, assaggia da solo. È un cedo. Eccolo, tieni. Assaggia e dici quali sono gli ingredienti. Che tipo di cioccolato è? Damiano vuoi assaggiare? Sì, sì. Tu libero però dal dover dire. Allora... E questo è difficile, eh. Questo è il più facile di tutti. Arancia. È uno! È arancia, bravo! Secondo cioccolato, vai. Secondo, vai. Tieni tesoro. Questo, qual è l'ingrediente che lo caratterizza? Vai, Francesco. È il latte. Eh, certo. Beh, sarà così facile. Mi sento ancora l'arancia. Però è vero, ha ragione, mi sento ancora l'arancia, ci vorrebbe dell'acqua tra una portata e l'altra. Allora, non senti nient'altro di particolare? Buona e buona. Non senti niente di particolare oltre il latte? Prova. Non ce la può fare, ragazzi. Passiamo al terzo. Uh, c'è da tre secondi. Tre, due, uno. Pepeperoncino. Bravo! È arrivata ora. È arrivata ora. Oh, via. Velocissimo il terzo. Il terzo, voi lo vedete. Allora, vai. Vai, vai, veloce. Francesco, qui risposta velocissima. Devi dare che siamo in chiusura. Da casa non fatevi ingannare, perché è un po' più complicato di quel che sembra. Vai. Veloce, Francesco, rispondi. È cioccolato bianco. Eh, però, però... Con, con che cosa? Con il miele! No! No! Niente, niente. Ho perso. Sai con che cos'era? No. Svendati, non rimanere... Vai, via la benda. Togli la benda, Francesco. No. Pensavo di rimanere così. Ce la fai? C'era lo zafferano, non me lo riconosco. Ma come è lo bambino? Lo chef più importante della costa occidentale del Mediterraneo che non riconosce il cioccolato. Bravo, bravissimo. Due su tre, come sono a seccare? Grazie, Damiano. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a Leoni. Buon fine settimana a tutti. Lunedì. Ci vediamo qui alle 18.30 con la famiglia Trabalza. I nostri Trabalza. Vi aspettiamo lunedì. Buon weekend. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.